Rieccoci qui con l'obiettivo di costruire la casa da un milione e affrontare una prova veramente impossibile Allora, organizziamoci Ok Organisation Io non pesco Allora, due cose devi fare oggi Mmh Killare mob e pescare Ok Ok, guardi E quindi devo andare nel nether No, killare mob normali, perché ci serve tanto ferro Ma ho visto che c'erano le cose dei blei Nel nether vado io e ti do il permesso di andare a prendere anche diamanti e smeraldi Diamanti tutti miei, non te li ho Mi serve molto oro Non te... no Molto diamante Molto oro No, 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 io non lo prendo l'oro L'oro è per i poveri, Steph Ferre, l'oro è per quelli a cui serve l'oro Sì Mi stai dicendo che sono povera Ferre, qua come sempre c'è la regola Se sei nel nether Eh? Se sei nel nether Muori Laghi Ok Maledetto Dovevate far bruciare? Maledetto Schifosi Come sta andando? Molto male? Eh sì, gente cattiva Luider, schereto non mi aveva quasi ucciso Roba brutta Ferre, roba brutta Sinceramente qua non si sta bene Tu sei triste ad essere lì ma io sarei felice di essere lì No, io vorrei cambiare posizione Com'è? Facciamo swap? Sì Swap up? Sì, sì Allora, vediamo un attimino Di questi ne servono sei e ne ho preso quindici Quindi questa cosa qua l'ho fatta Per fare quattro di quelli serve nove, diciotto, ventisette e trentasei Ne abbiamo tre e buona fortuna a me Mmm, fai anche le rime È vero? Sì Non era male Cantiamo una canzone assieme? No Dai, qualcosa di allegro No, Steph Dai, su C'è bisogno Lo stanno tutti Quanto oro serve? Diciotto Ne ho ventuno, quindi va bene Diciotto Finisco questi Ok Eccomi, Steph Ferre, ti ho detto di non venire Devi andare a pescare Ho fatto tutto quello che dovevo fare No, non hai pescato Hai pescato? Ho finito No Ecco Perché sei fatta così, te? Perché mi annoiavo Però ho preso un sacco di lapis Un sacco di oro Un sacco di redstone Dov'è, Steph? Eccolo Qui la festa Steph che prende fuoco Beh, non c'è nessuna festa È qui la festa C'è solo la gente che si fa male Ho finito Sì, è qui la festa Ciao Ho finita la festa No, l'ho mazzo Ecco fatto Quanto ferro hai? Ferro? Eh 12 Ferro, devi prendere anche il ferro? Ciao Che angoscia questo ragazzo Mamma mia Che angoscia Non fa mai divertire le persone Di una noia mortale Canta ed è sonato Mauro, cosa deve fare nella vita? Io dico Sei Bruttato Ridicolo Ecco cosa sei Abbiamo il vetro Allora, ne ho 28 Accidenti Non mi basta ancora Abbiamo il lapis Abbiamo la stone Abbiamo i blades rod Abbiamo i 15 nether quartz Che ne servono anche molti meno Il ferro Ferro lo avrà tra poco Quindi va tutto bene Ah no, però aspetta Mi ha dato anche un iron block Quindi ci arrivo? Sì, sì Sì, arrivo Arrivo, 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 arrivo Perfetto L'ho notato ora Poi Poi a questo punto Erano talmente tanti Noi dobbiamo craftare le porte Anzi ho 4 iron block Altro che uno Bellissimo Sono ricca Sono ricca Non si urla Sì che si urla Hai distrutto Dove sei andato? Dentro questa casetta? Perfetto Sì, il problema è che non trovo più Eccolo qua Non lo vedevo È là Bastoncini Ferro quanti bastoncini hai? Eh, 8 Ti bastano? Sì Vedi? Forse siamo Bu Dammi il bastoncini Tieni il bastoncini Dammi il ferro Tieni il ferro Te lo do tutto Tieni questo E tieni questi Per me altro? Forse no Allora, devo craftare Per quanto sono ancora avvelenata? Allora Secondo me la casa da 100.000 la vediamo La casa da un milione Oggi no Mi ritiro prima Come? Oggi no? Certo che la dobbiamo far vedere oggi No, no, no In un'altra vita Cioè intendevo proprio Oggi no Nel senso mai Chiuso qui dentro Capito? Mai No, dai No, per è troppo difficile Allora, che dobbiamo fare? Tu non sai com'è Allora Vediamo un pochettino E tre Tre Vettro Ok Dovrebbe essere One, two One E poi One, two, three One, two, three E posso fare anche le porte Allora, io provo a craftare tutto Vediamo se ci riusciamo Quindi i blocchi Ce li abbiamo Allora, il resto non ne hai? Sì Dammi Sì, qui davanti Aspetta, aspetta che vengo da te Eccola qui Però basti Sì, sì 28 Che poi secondo me ne avevo anche di più Non è che l'ho depositata qualche parte No, no, seguimi Dobbiamo andare Forse riusciamo a craftare quella da 100.000 Ottimo Casa super lusso Ottimo Io voglio almeno la piscina Eh, pure io a voglia Ma secondo te la casa avrà poteri incredibili? Perché ogni volta che craftiamo le cose da un milione Quella da un milione secondo me sì Vola? Non lo so, però secondo me avrà qualche potere bello Perché è sempre così C'è sempre la sorpresa finale super mega grandiosa È la cosa più bella di questi video La sorpresa finale Esatto Allora, one, two, three One, two, three Poi Eh, one, two One, two Ok Poi dobbiamo andare a mettere Lapis, lapis Poi andiamo a mettere Uno, due Poi andiamo a mettere Uno e due Poi andiamo a mettere Di oro Teffo Abbiamo la casa Sì Ma sei sicuro che si può trasformare? Cosa dovrei fare? Devi mettere i lingotti d'oro in una parte alta Non i lingotti d'oro E cos'hai? Il blocco Il Lo devo cuocere Abbiamo del carbone? No E c'è la fornace Ah, questa è una fornace Però non c'è Aspetta, vado a vedere se trovo carbone in qualcun'altra No E mi dà l'iron Cioè, non l'iron Il gold ore Cioè, ho l'or Ovviamente Sì, certo Ma E non si trasforma così? L'inventario Non lo so Proviamo le cast Non lo so Le chest Le crafting Non ho mai visto Cosa sto dicendo Del qual Eh, manco io Infatti sto panicando Allora, vediamo qui Magari se lo metto nella crafting da quattro Anche perché io sono bloccato qua per sempre, Ferre Perché questo crafting Io non lo rifaccio Quindi Sei da sola Eh, Stef Non so cosa dirti Buona fortuna Ere, mi sto addormentando Finalmente, Stef L'ho trovato Dietro una montagna C'era tipo Una piccola incanalatura Ho trovato del carbone E lì l'ho dovuto prendere Aspettare che si cuocesse tutto l'oro E trasformarlo Infatti sta ancora finendo di cuocere Guarda lì Vada a piazzare Vada a piazzare C'è voluto un sacco di tempo Però finalmente ce l'abbiamo fatta Dai Piazza la casa, Stef Sarà quella d'oro, giusto? Lì Dall'altra parte Esatto Corri Notatina Notatina Ferre, c'è uno squalo Come c'è uno squalo? Sì Non è vero? Ti ho mangiato Sei un bugiardo Esatto Sei un bugiardo Ok, corri, 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 qui Vediamo Questa inizia ad essere moderna Allora Si vede già Ok, tanto ne abbiamo tantissime di netherstar Quindi non sarà un problema Qui non c'è nulla E qua C'è la fine della mia vita Ok Abbiamo il piccone migliorato Quindi quello che ci dovrebbe permette di prendere anche diamanti Esmeraldi Dimmi Ma sei formato un ponte Un ponte Guardalo Che figo Bellissimo Quindi non solo la casa Guarda come si sta costruendo Vieni a vedere da qui Wow Guarda che bella Sperre, ma che cos'è quella da un... No, io, raga La casa da un milione qua spacca Cosa deve essere? Questa casa da un milione spacca di brutto Allora, deposito questo Allora, le casse Andiamo a vedere il piano di sopra Letti Ok Eh, bella Forte, non ci credo Bella Oh No Che ti succede, Steph? Dai, guiditi il momento almeno Cosa c'è? È troppo difficile Ok Facciamolo un pezzo per volta, Steph Un pezzo per volta Un pezzo per volta Spera Eh? Vai A fare cosa? A prendere No Io sono qui Loro Guardami, Steph Sali Sto dormendo Bella Non posso Guarda che vista Eh, l'ho vista Infatti dicevo Guiditi un pochettino la casa Tu stai già rompendo Steph, non posso andare a prendere l'oro Guarda che non c'era altro carbone Non ce l'abbiamo per cuocerlo Stava lì dietro un pochino Ma non ce n'è altro Ma Fede, ma sicuramente ti sbagli, dai Eh, a meno che non ne trovi tu altri punti Dove prenderlo? Come Fede si è distratta da una cosa? Non ha realizzato Che possiamo andare a prendere diamanti e smeraldi Eh, ma c'è il piccolo emigliorato? Sì Io non l'ho preso Ah, mi dispiace Vabbè, vai tu, Steph Io ormai sono snervata Tanto se devo prendere l'oro Non è che sono felice Allora Uno Due Ma fallo prendere a me l'oro Ascolta, sai che faccio? Vado a cercare carbone Ok Allora Diamanti ne servono otto Quindi me ne manca soltanto uno Smeraldi Io ne ho sei Ne servono un, due, tre, quattro Mamma mia Non ce la farò mai Stai più il carbone Non ne trovo altro Non ce la farò mai È davvero troppo buio Qui non si vede niente Mi ritiro Mi ritiro Mene Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Smeraldi finiti Otto diamanti Finiti Lapislazuli e redstone Non ho voglia di contarli Quindi per sicurezza ne prendo ancora Ok Oro Secondo me ne devo prendere talmente tanto ancora Che proprio non devo neanche starli a controllare Perché ne abbiamo dodici Ok Ho scavato random in un muro Dopo un po' l'ho trovato Ok Che devo fare? Se ne vede altro Lo devi andare a cercare Alla vecchia maniera Ok Ok Quindi Ah no raga L'adrezione in che mi serviva Lapislazuli sono a posto E Oro Perché ne serve 18, 20, 22, 24, 26 E io in questo momento Ne ho 15 16 Tu hai altro oro? No vero? Eh no L'ho lasciato tutto nelle fornaci Ne avevo altro eh Perché ne avevo un pochettino di più L'ho lasciato nelle fornaci Ho preso 18 di carbone Dovrebbero bastare Torno E ti ricordi quanto era? Eh Che cosa? Da quello che ho lasciato? Sì No non me lo ricordo Forse circa 8 8 or Qualcosa del genere Ok Non di più però Non erano troppissimissimi Allora ok Ferro ci serve No ferro non ce ne serve Anzi Siamo totalmente a posto Eh ne avevo preso tanto Ci serve vetro Però tu hai tante bottigliette Immagino Sì tantissime Quindi non ci serve Bisogna andare a pesca No Vai tu a pescare Non mi rompere Allora E vado un attimino nel nether A fare quel pezzetto Di cose che ci mancano Dopodiché bisogna prendere Un po' di cobblestone E quando tu avrai finito la legna Va craftato tutto E secondo me ci siamo Ok Ovvero tra 6 mesi Esatto Però ci siamo quasi Tranquillo Steph 6 mesi è meglio di un anno Vedi la così Sì Vedi la così No è vero Quanta te ne serve di legna Steph Quanta me ne serve di lag Che prego Legna Fai che me ne serve tipo 8 Ne ho 6 Pensavo abbastanza Non basta perché ne ho 2 Ok Me ne vado via Basta 3 4 5 6 7 8 Questo l'ho finito Quindi E cobblestone fere Eeeh Vado Vai Ci siamo eh Io inizio a craftare tutto adesso Vai 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 Bastoncini quanti ne hai? Eeeh 3 Non ho trovati altri Io ne ho 2 Ne manca 1 Vado io Allora mi hai detto che hai 6 di oro Sì te li butto Guarda Prenditeli Ok Sono lì davanti Così fai tutto tu E non perdi il conteggio Facciamo così Facciamo Così Ok Quindi 2 Più 6 Ne mancano solo 2 Gli ho presi Possiamo andare Corri come se non ci fosse un domani Siamo pronti La stiamo per fare? Cre... No Come no? Cosa ti manca? Devo craftare i letti e le porti A questo punto Quanto ci vuole? Teoricamente Dovremmo esserci Dovremmo esserci alla casa da un milione di dollari Che vale più di tutte le altre case Che avrà dei poteri speciali Ovvero vola O cammina Che mi possa aspettare O diventa anche un sottomarino E ci siamo Allora Ci proviamo a dirle le cose Vai Allora Quanto è grande sta carattin Che paura Nether star Poi Spazio di 1 1, 2, 3, 4 Poi Diagonale E diagonale E di nuovo diagonale E diagonale Poi Tra la diagonale E l'altro spazietto Dobbiamo mettere i rod Dopodiché A questo punto Noi sappiamo Che qui al centro Dobbiamo mettere 1, 2, 3, 4 E poi Ci dobbiamo spostare E Qui Ok Steffo Qui Non sbagliare Penso di aver contato Mali gli smeraldi Devi andare a prendere gli smeraldi Trovi il piccone Dentro la cesta Ok Cassa Eccolo qui Vado Poi Diamante 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 Ah ok Allora Dimmi se ci sono problemi Perché faccio tutto ora No forse ce li ho Due Vabbè io vado per sicurezza Non ci capisco nulla No devo riniziare No perché No mi ha bruciato tutto Come ti ha bruciato tutto No Steffo Ti prego Perché praticamente In questa roba C'è il bug Che se tu Annulli il crafting Te la cancella Ma no Sarà che intanto Te lo dimentico ovviamente Che esiste un bug del genere Certo Quindi penso Che dovrei chiamare il mago E mi servono 8 diamanti E 8 smeraldi Poi due qui Due qui E ok Poi dobbiamo fare Tutta la zona vetro Che è fatta in questo modo Poi possiamo andare a mettere I 4 diamanti Che mi ha toffere Poi possiamo andare a mettere Questo Altro Non questi 4 Che poi va a chiudere qua E andava a chiudere qua Forse no Poi andiamo a mettere Questi due Anzi mi serve un pochino Di nether quartz Questi 4 Questi 4 Questi 2 Così Ma tipo 5 6 6 Fai tipo 6 Tieni Questi qua Non uno di più Poi nether star Poi mi hai dato Questi Che devo mettere In crocetti Così Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Andiamo allora No Corri 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 Assolutamente sì Are you ready Sì Prontissimi Vai È fatta di smeraldi Ma è bellissima Blocchi di smeraldi Poi Ma che li ho mai visti C'è l'uovo Dell'ender dragon Con un beacon Tutto d'oro Diamanti Quarzo Quarzo No Ok Aspetta Ci sono le cose speciali Infatti vedi che ce lo sta dicendo Te l'ho detto che ci sarebbero state E cosa sono Eh vabbè Dobbiamo aspettare che Si finisca di costruire Vai rimaniamo fuori a guardarla È esageratamente gigante Fere io voglio questa casa È tamarrissima Steph Però è bella proprio per quello È la casa di Fere È palese Sì Sì Fere ci sono anche le fence in diamante sopra Eh le vedo È bellissimo No Guarda Guarda tutto quello che c'è Ovviamente ci vuole tantissimo Perché si costruisca Perché giustamente è esageratamente gigantino Inizio a entrare però No Aspettami Fere Bircio Dai facciamo il tour assieme Dai Allenta a costruirsi Non è pronta Allora Zona con l'uovo Ok Non toccare l'uovo Steph Si sale di sopra Ok si sta ancora costruendo No puoi cambiare il colore della casa Aspetta a farlo Bellissimo E qui Fornaci Qui c'è un tasto che ho scritto press me E anche qui Premimi Premimi E non so cosa facciano Hai ragione Allora aspettiamo Aspettiamo Guarda Guarda sopra Guarda sopra Ancora che si costruisce È tutto il tetto Guarda questo balcone No Steph Leggi qua Leggi 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 tutti e due No Leggi Hai finito di costruirti Allora provo il pig cannon Vai Eccolo No Ma è fantastico E io provo questo Penso che vada proprio su i maiali Oh cow Vabbè Ma se faccio solo quello Risolto il problema Guarda Steph Risolto il problema È una persona terribile Risolto il problema Basta Allora andiamo a provere quelli strani No aspetta Cambiamo il colore della casa Ok Wow È randomico? Sì Penso di sì Aspetta Ah no È come le cose Steph come i led Che fanno il ciclo di colore Ah Diventa una discoteca No è bellissima però Ma io voglio le discoteche No vabbè Le luci della discoteca Sono belle Dai Premiamo questi Dai Steph Sono troppo curiosa Allora vai Ne premo uno TNT Vai TNT Cannoni di TNT Vai Ma è bellissima sta cosa Perché non la posso avere nella realtà Strabello Steph Dai vale la pena È molto bella Un cannone di maiali Uno sparafulmini Un cambia colore E due sparatNT Ed è la casa più bella Che abbia mai visto Ah assolutamente È diventato anche più veloce L'ho ripremuto e più veloce Guarda È bellissima No Cioè se tu ti metti tipo in una vanilla Ti vedi solo tu nel raggio di 100 km Bellissima Bellissima Che figata incredibile Mi piace molto Che figata incredibile Raga ci fermiamo così La casa da un milione non la deluso Proprio come mi aspettavo Esatto Questi video sono sempre fantastici da registrare Qui è stato questo e per capire altri video Iscriviti al canale Campellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 Ciao